paolo fox oroscopo di oggi venerdì 7 giugno le previsioni segno per segno amore lavoro benessere fortuna cosa dicono le stelle secondo l'astrologo più famoso della tv oroscopo paolo fox di oggi venerdì 7 giugno l'astrologo più famoso della televisione ogni giorno dalle sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua aria terra e fuoco le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da radio latte miele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata comunque vada come consiglia lo stesso paolo fox le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno e non vanno considerate un oracolo indefettibile oroscopo paolo fox 7 giugno 2024 ariete 21 marzo 19 aprile tutto il meglio che riuscite a dire e a fare vi conviene farlo la mattina con la luna ancora in buon aspetto nel pomeriggio il satellite naturale della terra si sposterà nel cielo del cancro in quadratura quindi eventuali proposte confronti e idee vanno sviluppate la mattina oltre a pianificare il tutto dovrete essere nell'arte della persuasione ma anche della concretezza poiché siete irruenti esprimetevi in modo convincente ma non aggressivo usando l'intelligenza e il buon senso oroscopo paolo fox 7 giugno 2024 toro 20 aprile 20 maggio ci sono delle situazioni in sospeso che hanno bisogno di essere rivisti in giornata quindi dovrete fermare le altre attività che vi coinvolgono in prima persona da domenica quando accoglierete marte nel segno lo diventerà addirittura urgente in questa giornata dovreste provare a risolvere delle questioni di lavoro quali chiudere in progetto in corso o interrompere una collaborazione attenzione alle persone che vi circondano sarà sicuramente un venerdì che vi vedrà impegnati su più fronti oroscopo paolo fox 7 giugno 2024 gemelli 21 maggio 20 giugno venerdì avrete voglia di fare tante cose accompagnate da un grande entusiasmo chi è stato molto male per colpa di una persona in questi giorni state ritrovando più lucidità e serenità state decidendo di concentrarvi sulle cose più positive queste stelle portano a un grande rinnovamento sia interiormente che esteriormente dedicate più tempo alla persona amata che potrebbe avere bisogno proprio di una vostra coccola oroscopo paolo fox 7 giugno 2024 cancro 22 giugno 22 luglio dovete attendere giorni migliori questo significa che devi pianificare qualcosa di interessante per il prossimo fine settimana quando la luna sarà nel segno dalla seconda metà di giugno arriveranno mercurio e venere che vi daranno più risorse e opportunità questo è un momento buono per organizzare efficacemente anche la seconda parte del mese si prevedono incontri interessanti per i single se siete in coppia e c'è routine scatterà la passione oroscopo paolo fox 7 giugno 2024 leone 23 luglio 23 agosto il cielo vi trasmetterà una grande forza e in voi uscirà il combattente di sempre senza paura d'altronde quando la vita scorre piatta e non avete sfide di qualsiasi tipo da affrontare vi annoiate quindi le stelle sono favorevoli e vi aiuteranno a vincere tutte le sfide ma attenzione cercate di recuperare la forma fisica ma l'amore che fine ha fatto per i single non sono previsti incontri interessanti le coppie in crisi devono ancora capire cosa vogliono davvero oroscopo paolo fox 7 giugno 2024 vergine 24 agosto 22 settembre vi trovate in una tormenta planetaria da cui non siete ancora riusciti ad uscire l'oroscopo di paolo fox dice che anche venerdì la situazione non subirà variazioni in questi casi non conviene mai avventurarsi in sfide complicate si devono evitare le polemiche e se vi trovate in mezzo a dei provocatori dovete farvi scivolare le cose addosso aprite gli occhi nel lavoro potrebbe esserci un'interruzione o una spaccatura nel lavoro faticosa non affaticativi oroscopo paolo fox 7 giugno 2024 bilancia 23 settembre 22 ottobre basta con i ricordi stop alle vicissitudini passate niente di vecchio funziona più e sebbene a qualcosa o qualcuno siete ancora attaccati ci vuole uno strappo deciso perché si vive nel presente e si va verso il nuovo il cielo è positivo esce tutta la vostra creatività sfruttatela al meglio per lavorare su nuovi progetti le idee non vi mancano e meno male che è così perché qualcuna delle nuove ispirazioni potrebbe avere successo oroscopo paolo fox 7 giugno 2024 scorpione 23 ottobre 21 novembre venerdì la luna sarà favorevole soprattutto nel pomeriggio dal 17 giugno lo sarà anche venere le cure i progetti e le decisioni che prenderete adesso per recuperare più armonia e serenità daranno i loro frutti a partire dalla seconda metà di giugno nonostante non sia ancora attiva venere c'è la possibilità che il weekend sia intrigante mantenetevi in forma ma anche un po di relax non vi farà male per riordinare le idee oroscopo paolo fox 7 giugno 2024 sagittario 22 novembre 21 dicembre in questo momento vorreste proprio fuggire andare lontani magari per esplorare nuovi posti per vedere o pensare cosa c'è all'orizzonte venerdì sarà una giornata di discussioni accese diatribe tensioni servirebbe riflettere prima di parlare o agire ma forse non vi riuscite a trattenere perché la verità è che avete ottenuto meno di quanto vi aspettavate anche di non tangibile come un riconoscimento oroscopo paolo fox 7 giugno 2024 capricorno 22 dicembre 19 gennaio venerdì pomeriggio avrete la luna contraria come sempre in questi casi se avete situazioni delicate da affrontare e cosa da fare meglio farle in mattinata o il giorno seguente se nei prossimi giorni siete preoccupati per un esame sappiate che riuscirete a superarlo senza problemi in giornate come queste si deve provare a restare ottimisti è troppo facile quando le stelle sono con voi abbiate più coraggio meno negatività più fiducia nel futuro oroscopo paolo fox 7 giugno 2024 acquario 20 gennaio 19 febbraio venerdì sarà una giornata molto interessante per ritrovare più serenità vi sentite positivi e volete tirare fuori i progetti che avevate accantonato a questo potreste avere delle idee folgoranti e sec 0 nd o l'oroscopo di paolo fox quelle che nascono ora saranno favorite i sentimenti torneranno in primo piano in effetti è tempo di cambiare i single si sono rintanati le coppie sembrano formate da due amici più che da due persone che si amano c'è bisogno di più passione di meno egoismo nei confronti dell'altra persona oroscopo paolo fox 7 giugno 2024 pesci 20 febbraio 20 marzo venerdì pomeriggio la luna tornerà attiva le tensioni tenderanno ad affievolirsi voi giocatevi sempre la carta dell'introspezione interiore vi aiuta a rilassarvi e a calmarvi siete molto emotivo in quest'ultimo periodo dovete provare a tenerla a bada per quanto difficile sia anche se vi troverete di fronte persone contrarie e imprevisti faticosi resistete fatevi forza e pensato positivo perché la seconda metà del mese sarà molto più tranquilla oroscopo paolo fox 7 giugno 2024 acquario 20 gennaio 19 febbraio venerdì sarà una giornata molto interessante per ritrovare più serenità vi sentite positivi e volete tirare fuori i progetti che avevate accantonato a questo potreste avere delle idee folgoranti e sec 0 nd o l'oroscopo di paolo fox quelle che nascono ora saranno favorite i sentimenti torneranno in primo piano in effetti è tempo di cambiare i single si sono rintanati le coppie sembrano formate da due amici più che da due persone che si amano c'è bisogno di più passione di meno egoismo nei confronti dell'altra persona oroscopo paolo fox 7 giugno 2024 pesci 20 febbraio 20 marzo venerdì pomeriggio la luna tornerà attiva le tensioni tenderanno ad affievolirsi voi giocatevi sempre la carta dell'introspezione interiore vi aiuta a rilassarvi e a calmarvi siete molto emotivo in quest'ultimo periodo dovete provare a tenerla a bada per quanto difficile sia anche se vi troverete di fronte persone contrarie e imprevisti faticosi resistete fatevi forza e pensato positivo perché la seconda metà del mese sarà molto più tranquilla